Ed ora vogliamo farvi conoscere una giovane coppia di scoppito che da sei mesi, quindi prima del terremoto, aveva fatto una scelta particolare, vale a dire quella di vivere in una casa di legno. Con il sisma quella casa non ha subito alcun danno, eppure prima del terremoto quattro istituti bancari ci hanno detto, avevano rifiutato di accendere un mutuo a questa giovane coppia perché per loro la casa era insicura. Vi ha incontrati Umberto Braccini. Foto di case di tre anni di vita all'Aquila, è rimasto il cartello che è quasi una beffa, vendesi quarto piano luminoso. Noi raccontiamo un'altra storia, la tranquilla storia di una giovane coppia. Gli amici li prendevano in giro, l'amico ingegnere sconsigliava la scelta, il fratello geometra si distociava dalla decisione. Una casa tutta in legno, su una solida base in cemento armato. Cristiano, tu abiti qui da quanto tempo? Noi abitiamo qui da agosto, dopo il nostro matrimonio siamo venuti a vivere qui. Tu decidi di farti una casa in legno, decidete insieme di fare una casa in legno e giri quattro banche e che ti dicono? Mi dicono che non erogavano mutui per case prefabbricate perché le considerano non sicure. Invece questa tua casa come ha reagito? In questa casa comunque il terremoto si è sentito, noi abbiamo avuto assolutamente molta paura, siamo scappati fuori. Però dopo un paio di giorni di paura abbiamo ragionato e abbiamo pensato che comunque la nostra è una casa sicura, quindi siamo tornati a dormire qui. Che non ci sono state lesioni, nulla? Assolutamente, è caduta soltanto un po' di polvere dai mobili e basta. Vogliamo dire che dal giorno purtroppo del terremoto tanta gente chiama per venire a vedere questo tipo di casa? Sì, diciamo che non siete i primi. E in questi giorni, visto che la casa è sicura, state ospitando degli amici? Sì, noi la sera qui in sala spostiamo il divano e mettiamo due materassi, un materasso matrimoniale e un materasso singolo e ospitiamo tre persone.